Sport Story, il nuovo contenitore di sport di TVL, vi dà appuntamento anche questa sera, prenderà il posto di Giovedì Sport continuando a farvi rivivere alcuni momenti del calcio arancione con il ricordo del 95esimo compleanno della Pistoiese, festeggiato nell'aprile del 2016. Una serata alla quale parteciparono tante vecchie glorie arancioni e durante la quale vennero consegnati tantissimi premi, fra questi il amico sportivo al nostro indimenticabile Giancarlo Innocenti. Un appuntamento da non perdere allora questa sera, ore 21 circa, su TVL, canale 11. E restate incollati alla TV perché a seguire sarà trasmesso uno speciale dedicato alla pallacanestro con Madigan in Europa. Le repliche in onda nei giorni successivi su Sport TVL, canale 193.